Ho messo a cuocere la pasta, ho fatto sciogliere a fuoco dolce il formaggio spalmabile con un po' di latte Ho tagliato a dadini i formaggi che sono il gruyère, la cacciotta, il taleggio, il gorgonzola Ho versato tutto in padella e ho fatto cuocere a fuoco basso aggiungendo ancora un po' di latte Ho tostato le nocciole in forno, le ho tritate grossolanamente con un po' di salvia Ho scolato la pasta nel sugo, ho mescolato a fuoco spento, ho servito con parmigiano, granella di nocciole e pepe